Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e special modo alla recensione della GoPro Hero 5 Black Presentata a fine settembre, uscita nei primi giorni di ottobre, questa è la nuova generazione di action cam Naturalmente questa rispetto a tutto quello che si trova sul mercato e anche rispetto ai modelli precedenti della stessa GoPro E' a mio parere ritenibile il miglior prodotto mai presentato da questa azienda e che è davvero l'action cam perfetta Prima di passare a tutti gli aspetti tecnici della macchina vorrei dare un paio delle mie opinioni Questa è la prima GoPro Hero impermeabile senza lo scafandro Già avevamo visto questo tipo di novità sulla GoPro Session che era molto più compatta Ma questa che porta in sé uno schermo LCD per poter guardare sia il nostro materiale sia quello che stiamo riprendendo E' una vera novità Una mia considerazione è che tenendo in mano la GoPro sembri un tantino delicata Sì perché questa macchina va trattata come un action cam quindi se io voglio utilizzarla sulla neve GoPro mi dice puoi utilizzarla così perché è impermeabile fino ai 10 metri Tenendola in mano e guardandola da vicino non so quanto io andrei sott'acqua con una macchina così nuda Mettiamola in questo modo Ma sono soltanto delle perplessità e delle riflessioni che vengono fuori dopo averla presa in mano per la prima volta Nella confezione insieme alla GoPro avremo questa volta il frame Quindi non avremo più in bundle la cover subacquea Ma avremo solo un semplice frame con il classico attacco delle GoPro Per poterla adattare tutti gli accessori originali o compatibili che siano GoPro Hero 5 porta una ventata di novità all'interno del mercato dell'action cam Perché va a ribaltare un'altra volta ulteriormente quello che è il mercato fino ad oggi E sì perché introduce oltre all'ottima qualità d'immagine che registra questa macchina Questa action cam che vi ripeto è minuscola nelle mani Quindi lo erano tutti gli altri modelli Questa senza scafandro lo è ancora di più perché può essere utilizzata in tutte le occasioni Senza dover aggiungere altri accessori Unica mancanza reale di questa macchina E' una mancanza che è presente in tutte le altre macchine brandizzate GoPro E' la mancanza della vite da cavalletto E sì perché sarebbe stato un accessorio E' più comodo portarsi indietro un accessorio con una vite Piuttosto che doversi portare il frame L'attacco per il cavalletto La vite per agganciare i due Ma questa di sicuro è una scelta di mercato dell'azienda Una scelta di mercato di GoPro Che sceglie di dover utilizzare per forza un frame Per far rimanere la macchina comunque protetta lungo i bordi Perché il frame è di gomma ed è molto resistente E al col tempo vendere i suoi accessori proprietari Ma sappiamo benissimo che online nei negozi troviamo tranquillamente prodotti compatibili Noto a favore che questa è la prima GoPro che non registra soltanto con il campo in fisheye Ebbene sì questa GoPro adesso ha un campo definito lineare Dove avremo sempre un grandangolo ma questa volta senza distorcere i bordi Eccolo qui questo adesso sto riprendendo con la GoPro Vedete è un campo largo ma non distorce gli angoli di visione Per testare a fondo questa GoPro ci ho giocato per più di due settimane Sono andato in giro per testare quello che è il nuovo sistema di stabilizzazione delle immagini digitali Che posso preannunciarvi già che lavora in modo egregio E quelli che sono i formati video Quindi parliamo del 4K che è il massimo della risoluzione E lavora fino a 30 fotogrammi al secondo E poi ho registrato tantissimi clip in 1080 a 50 fotogrammi al secondo Anche se questa macchina può spingersi oltre Diamo uno sguardo a qualche clip e poi dopo torniamo e vediamo il menu e tutte le opzioni della GoPro Vediamo ora quelle che sono le proprietà di questa fantastica macchina Abbiamo un display sul frontale che ci mostrerà le icone e il time della registrazione Abbiamo sul lato uno sportellino All'interno porta lo spinotto USB di tipo C per la ricarica e la connessione al computer E un HDMI mini per poter vedere il materiale sui nostri televisori Come si nota subito dietro lo sportellino abbiamo un rivestimento in gomma Che serve a proteggere perché va sotto pressione Serve a proteggere le connessioni per non fare entrare l'acqua Infatti come precedentemente detto Questa GoPro senza il case esterno può arrivare fino a 10 metri sott'acqua La qualità costruttiva della macchina è in dubbia Ma ci sono delle piccolezze che mi fanno ragionare Ad esempio quando io apro questo sportellino Ecco qui come vedete il bottone rimane in pressione Questo perché la plastica qui dietro qui va a bloccarsi Può essere anche un problema del modello che ho io in mano Ma ci sono dei piccoli dettagli che forse andavano rivisti leggermente Stessa cosa per il vano inferiore Si apre con una pressione ed abbiamo la batteria e la micro SD Su questa GoPro adesso abbiamo due tasti Uno è quello laterale per selezionare la modalità Fotografia video e per accendere e spegnere la macchina E sopra invece adesso abbiamo il pulsante Per avviare la registrazione per stopparla o per fare uno scatto Questa GoPro adesso ha la possibilità di utilizzare dei comandi vocali Che dopo andremo a vedere ed è una funzione molto interessante Andiamo ad accenderla facendo una pressione sul pulsante laterale Ok la GoPro si è accesa Perfetto e adesso andiamo a vedere quelle che sono tutte le proprietà di questa macchina Partiamo dalla modalità fotografia Abbiamo la possibilità essendo uno schermo touchscreen Con uno swipe verso il basso di poter attivare i comandi vocali Ok quindi possiamo attivarli in questo modo in italiano certamente E di poter bloccare le impostazioni Abbiamo bloccato lo schermo e non possiamo sbloccarlo Così che se clicchiamo per sbaglio o per errore non cambieremo le impostazioni Per sbloccarlo basterà fare uno swipe verso il basso Cliccare e lo schermo sarà sbloccato Le impostazioni che abbiamo le possiamo trovare le impostazioni per lo scatto in questo caso Facendo uno swipe da destra verso sinistra abbiamo la possibilità di attivare determinate funzioni O di disattivarle Ad esempio se attiviamo il Protoon abbiamo il controllo manuale di tutto lo scatto Quindi possiamo selezionare il colore Con questo semplice selettore possiamo scegliere se deve essere piatto Quindi una sorta di log Oppure con la colorimetria della GoPro Possiamo scegliere il bilanciamento del bianco Se deve essere automatico o preimpostato Gli ISO possiamo scegliere minimo o massimo Perché naturalmente questa macchina non scatta come una reflex Ma dobbiamo impostargli un range di valori dove lei andrà a ragionare Possiamo scegliere la compensazione della luce La nitidezza se può essere alta o bassa E possiamo ripristinare i dati Vogliamo ripristinarli? In questo caso no, non mi interessa E quindi possiamo deselezionare con la spunta L'opzione Protoon Adesso la macchina ragionerà da sola Completamente in automatico Facciamo uno swipe Possiamo attivare il Wide Dynamic Range Per ottenere più informazioni tra le alte e le basse luci E questa è un'opzione completamente automatica Che però va in conflitto con l'ultima opzione Ed è quella lì dello scatto in RAW Infatti con il Wide Dynamic Range attivato Non possiamo utilizzare il RAW Infatti dato che con lo scatto RAW Noi possiamo effettuare le stesse operazioni in un secondo momento Quindi come visto dal messaggio d'errore Il Wide Dynamic Range è stato disattivato Fatto ciò per uscire dalle impostazioni Dobbiamo fare uno swipe verso il basso Allora abbiamo diverse possibilità Possiamo scegliere se scattare una foto normale Una notturna oppure una sequenza Naturalmente poi andando nelle altre due opzioni Cambieremo modalità della macchina Quindi rimaniamo su fotografia Abbiamo tutte le scelte per i nuovi campi visivi Quindi abbiamo il campo ampio Abbiamo il nuovo campo lineare Che secondo me è quello che realizza la svolta di questa macchina Ossia non vedere più La distorsione degli angoli Quindi è molto più utilizzabile in tantissime produzioni Possiamo scegliere poi tra i classici Medio e stretto Quindi c'è una bellissima possibilità Fatto ciò Naturalmente abbiamo gli indicatori Della batteria e degli scatti rimanenti E con uno swipe da destra Possiamo caricare tutte le ultime clip Quindi abbiamo la possibilità In questo caso è una clip video Quindi posso andare a vederla Qui sulla destra dello schermo Compariranno quelle che sono le opzioni avanzate Che noi abbiamo abilitato Quindi ad esempio se abilitiamo il Proton Ci comparirà il loghetto del Wide Dynamic Range E del Proton che sono stati attivati Eccoli qua Proton e Wide Dynamic Range Così abbiamo sempre sotto controllo Le opzioni che abbiamo selezionato Con un solo clic del pulsantino laterale Mode Possiamo switchare le modalità Video temporizzato Quindi sarebbero i timelapse E andiamo a video Quindi questo tasto serve per passare Tra le quattro funzioni della camera principali Ossia gli scatti in velocità e in sequenza Dove se clicchiamo lui scatterà in sequenza Una serie di fotografie Per catturare attimi particolari E se andiamo in video temporizzato Il timelapse possiamo impostare L'intervallo di scatto Ogni 0,5 secondi Fino a ogni 60 secondi Possiamo scegliere la risoluzione D'uscita del video Quindi 4K, 2K, 2,7K In 4 terzi o 1080 Andiamo adesso nella modalità video Molto interessante Abbiamo la stessa funzione nei menu Quindi uno swipe da destra verso sinistra Per andare nelle varie impostazioni Abbiamo la possibilità di creare una traccia audio in RAW In una qualità alta Possiamo scegliere determinate impostazioni Molto simili a quelle del reparto fotografia Abbiamo la possibilità di selezionare l'apertura dell'otturatore A differenza dello scatto fotografico Disattiviamo questa opzione Andiamo oltre Abbiamo la possibilità di attivare o disattivare Lo stabilizzatore video Naturalmente E ce lo specifica anche Nel campo visivo grandangolare Se stabilizziamo il video Il campo visivo grandangolare Sarà più stretto di circa il 10% Quindi è una cosa che ci specifica sin da subito Abbiamo la possibilità di attivare questa funzione In caso di illuminazione molto scarsa La GoPro automaticamente abbasserà la frequenza dei fotogrammi Quindi rendendo il video anche più scattoso Ma naturalmente più illuminato Questa era l'ultima opzione disponibile nel menu video Naturalmente qui sotto qui abbiamo il campo per selezionare il campo visivo Quindi io in questo caso ho il campo lineare Possiamo selezionare i fotogrammi massimi a cui possiamo registrare In questo caso in HD possiamo arrivare fino ai 240 fotogrammi al secondo Io per comodità tengo selezionati i miei 50 Perché è così che registro E possiamo selezionare quella che è la risoluzione Quindi abbiamo il 4K, 2,7K, il 2,7K in 4 terzi 1440, 1080, 960, 720 e 480 Ecco queste sono tutte le risoluzioni disponibili su questa macchina Adesso andiamo a provare una delle funzioni più simpatiche Ossia quella dei comandi vocali GoPro avvia video Con un semplice controllo vocale quindi con una frase stabilita Noi possiamo avviare la registrazione del video E dato che stiamo registrando un video Voglio portarvi all'attenzione quelli che sono i dati presenti sul monitor frontale Abbiamo la disponibilità sulla nostra scheda La durata della nostra batteria La durata della registrazione E il formato di registrazione in questo caso E la modalità che è video Abbiamo qui in alto un LED Che ci notifica il fatto che stiamo registrando E con un semplice comando poi possiamo andare a fermare la registrazione video Questo è quello che è il menu della nuova GoPro e tutte le sue potenzialità Insomma questa GoPro Hero 5 Black ci piace E' tantissimo E' una camera fantastica adatta davvero a tanti scopi Ed oggi ancora di più a mio avviso come camera da portarsi in vacanza E sì perché per raccontare dei momenti dove oggi ci sono tantissimi vlogger Che anche su YouTube raccontano le proprie storie utilizzando delle mirrorless Che sono sì compatte ma non quanto questa Pesa poco E' una macchina che fa un file di qualità Certo quello che si può pretendere è il massimo per una action camera GoPro Hero 5 Black promossa Per questa recensione è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video